un saluto a tutti cari e amici bentornati per questo nuovo video siamo oggi in compagnia di shelly un nuovissimo dispositivo della famiglia shelly un piccolissimo dispositivo della famiglia shelly esattamente lo shelly blue button 1 eccolo qui piccolo 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 e tra due dita della mia mano come vedete sembra quasi un piccolissimo porta chiavi a cosa serve a cosa serve cosa fa questo shelly blue button ecco vedete che la strip led alle mie spalle si è spenta e la strip led alle mie spalle si è riaccesa quindi è facile intuire che serve a gestire a comandare tutti i dispositivi della famiglia shelly che avete caricato all'interno del vostro ecosistema shelly comprese scene script o quant'altro e quindi andremo subito sul mio banco da lavoro a vedere un pochino da vicino a fare una prova di funzionamento vi dico subito blue button blu sta per bluetooth naturalmente quindi per la prima volta abbiamo un dispositivo un piccolo dispositivo shelly che non fa uso di wifi ma utilizza il bluetooth in particolare nello specifico il bluetooth low energy per funzionare bene questa è una grandissima novità infatti quando abbiamo proposto i primi dispositivi shelly della famiglia plasso della famiglia però ricordo proprio che luigi duchi e luigi duchi ci siamo chiesti quali sarebbero state le implementazioni del bluetooth che già è a bordo di tutti quei dispositivi vi ricordo che quando c'è stato il passaggio della piattaforma hardware dal collaudatissimo esp8266 al nuovo esp32 che viene utilizzato su tutti i nuovi dispositivi shelly e quindi con integrazione all'interno anche della radio bluetooth ci siamo chiesti a cosa servirà il bluetooth quali implementazioni alterco robotics che l'azienda che produce dispositivi shelly avrà intenzione di portare in futuro bene questa è la prima implementazione vediamo andiamo sul mio banco da lavoro e vediamo come funziona questo fantastico dispositivo ed eccoci qui ragazzi sul banco da lavoro con lo shelly blue button 1 come 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 avete visto ne ho già uno che ho messo in funzione ma alterco questa volta me ne ha mandati due quindi andiamo a fare lo spacchettamento di uno nuovo 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 così vedete cosa vi riserva la confezione appena lo aprite eccolo qui come al solito abbiamo il dispositivo vero e proprio in questo caso è senza batteria e la batteria la trovate all'interno della confezione viene alimentato tramite una batteria cr2032 a 3 volt la batteria ripeto la trovate all'interno della confezione ma non è nel dispositivo una cosa positiva perché così non si scarica e quando l'andate ad installare sul dispositivo è praticamente viene utilizzata per la prima volta e quindi nuova 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 avete il classico manuale utente dove ci sono scritte insomma un pochino di indicazioni qui come installare la batteria eccetera e poi quest'altro fogliettino ecco qui dove potete fare la scansione per andare a scaricare l'app e poi potete andare ecco qui alla guida online tramite quest'altro codice qr quindi andiamo subito a guardare da vicino il dispositivo come vedete è un piccolo portachiavi qui potete agganciare il classico portachiavi qui vediamo ci sono tre forellini e di qui esce il suono poi andremo a vedere questo invece è il pulsante che è circondato da un anello che in alcune occasioni si retroillumina con un simpatico led alle spalle qui invece abbiamo il coperchio che va a coprire il vano batteria vedete che qui c'è questo piccolo intaglio quindi andando con un cacciavite a sollevare ecco qui molto lentamente molto lentamente come al solito io non ci riesco ecco qui anche perché voi non lo vedete ma quando facciamo le riprese abbiamo le braccia praticamente che devono girare intorno al cavalletto e alla telecamera per fare la ripresa quindi siamo un tantino scomodi ecco qui siamo arrivati al nostro vano batteria andiamo a mettere la batteria come vedete il più della batteria è la parte questa parte liscia che sta sotto qui invece dobbiamo mettere il meno quindi la dobbiamo mettere in questo modo qui col più rivolto verso l'alto ecco vedete che lui già ha emesso un suono e ci sta dicendo che si è praticamente acceso quindi andiamo a rimettere il nostro coperchietto eccolo qui vediamo che lui già suona ok funziona alla perfezione cosa ce ne facciamo cosa ce ne facciamo naturalmente essendo un dispositivo bluetooth l'abbiamo detto già nell'introduzione è compatibile con uno dei dispositivi della serie plus o della serie pro che integrano un che integrano il bluetooth ma vedremo tra un po che è possibile in realtà con questo dispositivo comandare tutti i dispositivi della famiglia shelly e infatti quello che avete visto nell'introduzione l'accensione della strip led quella strip led è su uno shelly 2.5 come si fa in questo caso è semplice lui andrà abbinato a uno shelly plus o pro quindi uno col bluetooth a bordo poi all'interno delle scene potremo inserire qualsiasi dispositivo shelly anche non bluetooth ma il dispositivo pro o plus farà da bridge quindi percepire il segnale bluetooth e poi lo rigirerà via wifi ai dispositivi che non hanno il bluetooth andiamo subito a fare una prova eccoci qui per l'occasione ho tirato fuori il bestione solito che sto utilizzando ultimamente sul mio banco da lavoro perché non l'ho ancora installato sicuramente avrete visto il video se non l'avete visto è l'aggeggio che mi serve per ricaricare la mia auto elettrica e quindi che cosa dobbiamo fare andiamo ad accendere anche il mio smartphone che faccio comparire qui da qualche parte sul display credo sulla destra perché c'è un pochino di spazio eccolo qui che appena comparso bene non dovete usare l'app shelly cloud per configurare il vostro shelly blue button 1 ma dovrete utilizzare l'app shelly smart control ecco qui quella con l'icona blu per intenderci questa app è ancora in versione beta è la nuova applicazione dedicata al mondo shelly è ancora in versione beta ma funziona abbastanza bene funziona molto bene devo dire quindi io l'ho installata poi cosa ho fatto allora innanzitutto dovete andare all'interno del dispositivo shelly che volete accoppiare in questo caso è questo qui vedete ricarica tesla o ricarica 500 elettrica è la stessa cosa non ho una tesla ma sul secondo canale ho scritto tesla perché spero che mi porti fortuna e possa acquistare a breve una tesla bene dovete andare nelle impostazioni ecco qui vi dovete recare in questo menu dove ci sono i dati di rete e andare qui sul bluetooth è abilitato nel caso non sia abilitato abilitate tutte e due queste spunte sia enable bluetooth che enable bluetooth gateway dopodiché potrete andare semplicemente nella home della vostra applicazione andare qui in basso selezionare più e aggiungere un nuovo dispositivo non wifi ma la voce che c'è sopra quella con il più aggiungi nuovo dispositivo in questo caso lui vi chiede come naturalmente via bluetooth neanche a dirlo facciamo avanti andiamo a fargli fare un bip ecco qui appena l'abbiamo cliccato sul pulsante lui l'ha riconosciuto perché si è risvegliato andiamo avanti lui ci chiede di premere di nuovo il pulsante ecco qui appena premuto gli andiamo ad assegnare un nome lo chiamiamo button button 2 perché questo l'avevo nominato button 1 così andiamo a vedere la differenza tra i due facciamo avanti ecco qui lui ci chiede quale dispositivo plus o pro è abilitato a ricevere i segnali bluetooth low energy bl quindi andiamo correttamente a indicare quello che già spuntato ricarica tesla prossimo come stanza lo andiamo a mettere nella stessa stanza qui ricarica auto elettrica e lui sta facendo l'associazione del dispositivo eccoli qui abbiamo button 1 e button 2 ecco qui basterà fare un tap per far togliere quella scritta connessione in sospeso qualcosa del genere allora come vedete ho fatto un una pressione singola del button è uscito un puntino lì a destra se faccio due pressioni veloci come vedete rileva i due puntini se faccio tre pressioni ok devo essere abbastanza rapido tripla pressione oppure pressione prolungata vedete il trattino quindi lui è compatibile con quattro pressioni quindi può utilizzare può essere utilizzato per quattro per quattro pressioni come fare a comandare una volta che abbiamo fatto l'abbinamento un dispositivo shelly dobbiamo realizzare una scena andiamo a tutte le scene aggiungiamo una scena la chiamiamo button 2 avanti aggiungi una condizione basata sul dispositivo certo andiamo a ricarica auto elettrica dispositivo button 2 in questo caso seleziona la proprietà dispositivo pressione pulsante naturalmente e qui abbiamo le quattro possibilità di pressione quindi quando il pulsante pressione e breve quando è prolungato eccetera facciamo un singolo click breve facciamo salva prossimo aggiungiamo un'azione sempre dispositivo sempre ricarica auto facciamo ricaricare la 500 elettrica e qui mettiamo toggle state quindi lui ad ogni pressione cambierà stato al dispositivo così con un'unica azione possiamo sia accenderlo che spegnerlo avanti 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 salva ecco qui adesso cliccando su questo dovrebbe scattare il lo shelly 2 lo shelly pro 2 pm che poi mi farà scattare questo contattore eccolo qui l'avete sentito che rumorone che ha fatto e qui ha scattato ancora bene nello stesso modo vi faccio vedere l'altra scena quella del button 1 eccola qui ecco qui ho collegato la striscia led questa striscia led fa riferimento a un adesso la vediamo faccio modifica vabbè voi non lo vedete ma fa riferimento perché qui non si evince in effetti fa riferimento a uno shelly 2.5 quindi lui in realtà rileva tutti i dispositivi shelly della famiglia installati all'interno dell'app shelly cloud quindi che cosa succederà se se vorrete comandare con lo shelly blue button un dispositivo non bluetooth succederà che lui mandare al segnale al dispositivo bluetooth in questo caso allo shelly pro 2 pm che poi invierà a sua volta tramite wifi il comando al dispositivo in questo caso allo shelly 2.5 come avete visto in apertura di video ho fatto accendere e spegnere correttamente una strip led che era sotto un dispositivo shelly 2.5 bene tutto qui tutto qui più o meno quasi tutto qui perché abbiamo alcune funzioni ecco qui torniamo un attimino indietro e andiamo a vedere sempre all'interno dell'app ecco qui abbiamo alcune funzioni che ancora non sono disponibili per esempio se proviamo andare nei settings ci dice che bluetooth device settings and configuration are currently under development quindi sono in fase di sviluppo in alto ci dice coming soon e quindi sono in arrivo stessa cosa se andiamo in questi altri settings ci dice la stessissima cosa ma quali saranno le future funzioni eventualmente oltre questi quattro tap che ci possono quattro tipi di depressioni che ci possono andare a sbloccare azioni o scene all'interno dell'app shelly cloud bene sbirciando sul sito shelly ci suggerisce che per esempio il cicalino oppure anche l'anello retroilluminato a led ci potranno dare informazioni sonore o visive direttamente dall'app sullo smartphone vi faccio un esempio immaginate che lo utilizzate questo come porta chiavi quindi ce l'avete attaccato alle chiavi avete smarrito le chiavi all'interno di casa perché sono finite sotto il cuscino del divano inadvertitamente mentre eravate seduti a guardare la televisione bene non trovate le chiavi andate sul vostro smartphone cliccate dite che insomma deve emettere un allarme sonoro o visivo entrambi e lui inizierà a bippare esattamente come sentite ecco qui il bip in questo caso del suo piccolo alto parlantino e quindi lo potrete per esempio utilizzare come un ritrova oggetti all'interno di casa molto interessante come funziona oppure ancora alterco ci suggerisce che le potrete utilizzare come rilevatore proprio di presenza all'interno di casa facciamo sempre lo stesso esempio ce lo portiamo dietro attaccato alle nostre chiavi quindi quando usciamo di casa i dispositivi bluetooth non lo rilevano più all'interno di casa quindi capiscono che si può eventualmente attivare una scena qualora l'abbiate preimpostata di fuori casa e quindi magari spegnere luce o cose del genere viceversa quando rientriamo in casa lui rileva di nuovo la connessione radio bluetooth capisce che siamo rientrati e può attivare una scena all'interno di casa tipo non so innalzare l'escaldamento d'inverno o qualcosa del genere o accendere luci di cortesia tutto quello che ci viene in mente bene 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 ragazzi queste più o meno sono le funzionalità avanzate che alterco promette di implementare a breve quindi in arrivo ora non so se ne verranno fuori ulteriori però per adesso direi che insomma funziona abbastanza bene vi volevo segnalare un'altra cosa che sinceramente ho visto mi ha lasciato un pochino così come vedete sull'app i due button quindi questo è il button 2 questo è il button 1 che ho battezzato io così quello che ho appena messo in funzione c'è la batteria al 100% quello che è il button 1 che ho utilizzato per fare qualche prova qualche test è al 69% bene alterco dichiara che con questo tipo di batteria questo dispositivo può durare fino a due anni chiaramente fino a due anni in base a quante volte viene utilizzato sono rimasto un pochino basito così quando ho visto con una mezza giornata di smanettamento insomma che ho realizzato io per studiarmelo un pochino prima di fare questo video è sceso già al 69% non vi so dire se è un problema legato alla batteria di questo dispositivo che mi è arrivata magari non carichissima ci può stare però insomma vi volevo segnalare che nel mio caso è andata sta andando così quello del button 2 l'ho aperto con voi l'abbiamo usato proprio 3-4 volte insomma quelle che avete visto nel video è la batteria è ancora al 100% quindi non vi so dire l'attendibilità insomma della durata della batteria perché naturalmente se dura più o meno due anni non potevo aspettare due anni prima di pubblicare il video ebbene bene bene andiamo andiamo ai saluti finali pubblicità ebbene bene bene carissimi amici spero che il video vi sia piaciuto una piccola considerazione sul prezzo viene venduto su per adesso non solamente sullo store ufficiale shelly forse anche su shell italia non ho guardato sicuramente non su amazon non è disponibile comunque viene venduto a circa 18 euro incluso di iva è disponibile in quattro colorazioni non mi ricordo rossa bianca e blu sicuramente poi un altro colore che ora non ricordo comunque vi metto come al solito il link in descrizione qualora siete interessati e lo vogliate acquistare bene vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale qualora non l'abbiate già fatto per essere avvisati ogni qualvolta un nuovo video viene caricato vi ricordo di andare a previsita al nostro blog in indirizzo www.vincenzo.com dove trovate un articolo correlato a questo video e tantissimi articoli interessantissimi vi ricordo che abbiamo anche una pagina facebook per gli amanti di facebook ci potete seguire anche da lì e soprattutto abbiamo un canale telegram con una piccola sezione di discussione dove potete porre domande a tutti quelli che sono all'interno del gruppo di questo canale e naturalmente potete fare domande anche a me a Luigi Duchi e a Raf il nome del canale è sempre Vincenzo Caputo trovate comunque il link anche al canale telegram in descrizione siamo presenti anche su instagram e su google news bene è veramente tutto 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 da materia vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo video un saluto da Vincenzo ciao ciao